Sono Claudio Petrogalli, sono uno dei responsabili della fiera qui di Clusone, un mostro a zootecnica, arrivato ormai alla sessantesima edizione. Siamo arrivati verso sera e soprattutto per ricordarvi il bello spettacolo che ci sarà stasera verso le 20.30-21. Ci sarà Donald Newman che è un vero artista e in più ci saranno i ragazzi che gireranno con le carrozze. Niente, per poi riprendere domani mattina con la rassegna provinciale del cavallo Afflinger e ci sarà verso le 10 la solita sfilata nelle vie del paese con i cavalli da sella e un bel numero di carrozze. Il pomeriggio ci saranno tutte le premiazioni delle varie categorie degli Afflinger e ricordo per i bambini il battesimo della sella verso 2.30-3 insomma con dei poni così facciamo felici anche i ragazzini. Poi, niente, vabbè, la manifestazione si concluderà lunedì con la mostra della mucca frisona e della mucca bruna e della pecora bergamasca. Niente, colgo l'occasione per ringraziare un po' tutti quelli che ci hanno dato una mano a partire dal comune di Clusone, alla comunità montana Valle Seliana e anche a tutti gli sponsor che seppur in un momento di difficoltà ci hanno comunque aiutato. una fiera ricca di spettacoli e di eventi.